Torna in campo la nazionale di Mancini, primo impegno delle qualificazioni agli europei. Difficile questa sera al San Paolo contro l'Inghilterra in una città che teme anche l'arrivo degli hooligans. Allora andiamo subito da Enzo Perone. Sì, eccoci appunto, lo dicevate. Massima allerta per la partita di questa sera. Napoli e Inghilterra sono attesi 2500 tifosi inglesi che invaderanno la città e noi ci auguriamo pacificamente dopo gli scontri con l'Eintracht Francoforte. Li ricordiamo, una città messa a ferre a fuoco, una guerriglia urbana, anche se poi, come ha detto il prefetto nella conferenza stampa, si è riusciti a non far incontrare le due tifoserie o le frange violente delle tue tifoserie. Perché sarebbe potuto succedere qualcosa di molto peggiore. Antonio De Jesu, assessore alla legalità, è stato questore di Napoli, vicegrafo della polizia. Qual è il dispositivo oggi? Massima allerta per evitare che ci siano incidenti. È un robusto dispositivo che le autorità di pubblico e sicurezza, il prefetto, questore e forze di polizia hanno messo in campo. La dimensione... sono diverse. Questo sarà una giornata, una bella giornata di sport. Io ritengo, anche se ne sono certo, non ci saranno turbulenze dal punto di vista dell'ordine pubblico. È stata individuata una fanzone all'interno della stazione marittima. Ci sono 18 pullman che abbiamo messo a disposizione insieme all'EAV e all'ANM. e lì i tifosi saranno portati in sicurezza allo stadio. Sono certo che saranno una giornata di sport, una giornata in cui i tifosi inglesi saranno qui e godranno le bellezze di questa meravigliosa città. la vivranno in serenità, senza turbulenze dal punto di vista dell'ordine pubblico. Grazie Assessore De Jesu. Da Napoli è tutto, linea studio.